Restauratore del legno e falegname molto esperto, aveva realizzato per la Cattedrale di Piacenza la salita alla cupola del Guercino, un manufatto in legno che ha permesso al grande pubblico di poter vedere da vicino gli affreschi dell'artista. Un progetto molto complesso al quale altri artigiani avevano rinunciato. E' Marco Petrali Tansini, di 66 anni, che nel tardo pomeriggio di sabato ha perso la vita in un tragico scontro sulla Statale 45 nella Galleria di Bobbio. Tornava da una giornata passata a pescare in trebbia, in sella alla sua moto, anni 70. Petrali Tansini lascia la moglie e due figli. Era un grande appassionato di motociclette, ma anche un bravissimo professionista del legno. Aveva realizzato anche parte dell'allestimento della mostra della Madonna Sistina e la sua abilità era stata preziosa anche nel Museo dell'Emigrazione degli Scalabriniani, dove aveva anche ricostruito la chiglia di una nave. Era un uomo a prima vista burbero, ma dal grande cuore e profondamente buono. Ha raccontato Manuel Ferrari, responsabile dei beni culturali della diocesi, che ha lavorato con Tansini Petrali per oltre dieci anni, fino al punto di diventare amici, al di là del rapporto professionale. La sua scomparsa lascia irrealizzato un progetto che aveva in mente, una scuola di restauri artistici, per trasmettere il suo sapere su una tradizione dell'artigianato e su un lavoro di una volta, fatto con precisione e con arte, che veniva da molto lontano.